Boom di contagi nelle scuole dell'agro nocerino sarnese, da Nocera Inferiore a Sarno, da Roccapiamonte a Pagani e le mamme chiedono la didattica a distanza. Ma andiamo con ordine, iniziamo da Pagani. C'è una ragazza che è risultata positiva al Covid, frequenta la scuola media Sant'Alfonso. I genitori dei suoi compagni di classe hanno chiesto la ripresa della didattica a distanza. Il vicepresidente del Consiglio Comunale, Umberto Alessandro De Martino, ha detto che in coerenza alla linea seguita ad ottobre dall'amministrazione De Prisco, è necessario ad operarsi per l'immediata accusura di tutte le scuole per la salvaguardia della salute pubblica e di smetterla di inscenare ancora inutili teatrini e riflettere attentamente sulla condotta irresponsabile avuta in questi giorni per porre subito rimedio per scongiurare una terza ondata. Anche a Corbara è stata chiusa la scuola media per un caso di positività di uno studente. Aule sanificate, quarantena e ritorno alla DAD. A Nocere Inferiore è stato individuato un caso di positività al plesso Regina Mundi del IV Istituto Comprensivo al quartiere Vescovado. Si tratta di un bambino della seconda classe della scuola elementare. La dirigente scolastica Anna Rosaria Lombardo ha disposto la quarantena fiduciaria per dieci giorni in attesa del tampone di tutti gli alunni della classe e dei docenti che hanno avuto contatto con il bambino. Da lunedì, primo febbraio, l'intera classe seguirà le lezioni a distanza. Ad Angri, all'Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone, un caso di positività tra i ragazzi. Questa mattina a scuola chiusa non va meglio a Sant'Egito del Monte Albino. È stata disposta la sospensione cautelare delle attività didattiche in presenza da oggi per un caso di contagio alla scuola De Filippo. C'è un alunno positivo anche a Roccapemonte. A Sarno è stato costituito il gruppo Tuteliamo i nostri figli, scuole chiusi a Sarno. Hanno chiesto i componenti del gruppo e ottenuto un incontro con il sindaco Giuseppe Canfora. Hanno stilato un documento nel quale sono contenute le loro proposte. Siamo a un passo dalla vaccinazione di massa e ormai a febbraio scrivono nella nota un mese in cui la diffusione del virus influenzale stagionale, quello tradizionale, tende a crescere e questo crea ulteriori difficoltà da un punto di vista diagnostico. Esiste ed è accertata una variante inglese del Covid-19 che non rassicura affatto. Siamo a metà anno scolastico, in corso e ormai la didattica a distanza sembrava funzionare con maggiore regolarità anche per le prime classi elementari. Si parla ormai da tempo di una terza ondata. Fatte queste devute considerazioni, in questo periodo di emergenza, ci è stato chiesto di essere persone responsabili, ma all'improvviso intorno a noi si sta sviluppando un'area di irresponsabilità con il benestare delle istituzioni, scrivono questi genitori. Ed è a queste istituzioni che chiediamo che ci vengano date delle risposte, dato che gli atteggiamenti assunti non sono compatibili con l'emergenza pandemica che stiamo vivendo.